Benvenuti alla prima puntata di Shorts Road, programma dedicato alla proiezione di cortometraggi. Oggi vi presentiamo due corti in arrivo da Verona e Piacenza. Iniziamo con la storia di un autista da autobus dalla vita monotona in una sperduta zona montana ed all'incontro con una misteriosa ragazza incinta che sconvolgerà la sua vita. Presentato al Film Festival dell'Alessinia nel 2008, il film ha avuto numerosi riconoscimenti. Ha vinto il premio del pubblico alla tela di Penelope e ha fatto i vostri corti del 2010. Va segnalata inoltre anche la presenza del compianto Angelo Infanti, grande attore del cinema italiano, qui anche nelle vesti di produttore. Senza ombra di dubbio, un corto di Alessandro Zonin. Grazie a tutti. Oggi piove, piove forte, come un'onda grande che sbatte al molo e si rompe in una manata di schiuma. C'è il vento, c'è un odore come di mare. Fermata della pieve vecchia, mai nessuno. Il mare, il mare, sì. Il mare, io non voglio più lavorare. C'è il vento, c'è il vento, c'è il vento. Sono dieci anni che prendo questo pullman delle sette e sono dieci anni che a questa fermata non è salito mai nessuno. Scusi, cosa c'è scritto là? Fermata, quindi devo fermare. Momento. Passo. Momento. No. 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 Non. No. No, 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 no. No! No! No, 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 no. No, no, no. Nera, ho tanta voglia che sia già sera. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A presto. A presto. A presto. A presto. Ehi, che succede? Che succede? Che se mi fermo qua esce tutto. Oh madonna, aspetta, aspetta che ti aiuto io. Fai piano, fai piano. Sei brava, respira così. C'è la foglia su là? Sì. Scusate, c'è per caso un dottore fra di voi? Ah sì, sì, sono tutti primari qua. Scusate, c'è per caso un dottore. Questa è... Questa è. Questa è... Una ragazza che sta portando. Un momento è aspettare fuori per cortesia, grazie. Sì, ciao, sono camminati. Sì, sono al pronto soccorso perché c'è stata un'emergenza. No, 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 io sto benissimo. Una ragazza che doveva partorire.